Il comando della forza, al comando della forza, amici, che è in grado alla cittadinanza di Stilla, Quattro Corrivole, Columbelli, Paolini, Pietro Pogli e Trentin. E vaffanculo, c'è Paolini. Pietro Pogli e Trentin hanno un vantaggio di 7 minuti, circa 7 minuti, e quanti del profondo, Columbelli, Pietro Pogli, Paolini e Trentin. Al comando, sì, dal chilometro 14, viaggiano con un vantaggio di 7 minuti, circa 7 minuti. Grazie.